salve a tutti agricoli salve oggi andiamo a seminare carote andiamo a seminare queste carote qui ovviamente è la prima volta che anzi è da un paio di anni che non le semino più adesso ho voluto riprovare a seminare le carote ovviamente le seminerò in file per dopo andare a consociarle insieme ad altre cose quindi le andrò a consociare insieme alla della lattuga della lattuga quindi ho già preparato delle file che adesso andrò a continuare a fare e in mezzo alle file andrò a mettere qualche ceppo di lattuga quando sarà pronta la lattuga mista intanto andiamo a seminare queste carote qui ho il mio attrezzo per fare il lavoro che questo trapiantatore qui la versione qui nel legno ma ovviamente non era adeguato per fare questa cosa qui allora mi sono andato a procurare quello che va meglio e niente adesso io vado avanti col lavoro voi vedrete delle immagini poi metterò della musica e niente continuo col lavoro ciao 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 adesso vado a seminare questi semi qua di carota che voi vedete ovviamente non sono ovviamente non sono autoprodotti perché non ce li ho io ma sono semi che sono andato a comprare ma non c'è tanto ti viene da busta che mi ne vado a seminare on fatto in edifici sa come un po' che fa domanda che lui beca laạcina Grazie a tutti. Continuo con la semina ora delle miscarote, faccio tutte quante le filo che faccio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso chiudo con il coso, gli do una bellina fiata e niente. Questo video molto veloce della semina ovviamente, poi andrò a metterci delle piantine di insalata che ovviamente stanno ancora in serra e le andrò a mettere prossimamente. E niente, noi ovviamente ci vediamo con i prossimi video sempre sul mio canale. Vi ricordo di iscrivervi, lasciare un bellissimo like, lasciare ovviamente anche un like se non volete. e ora io vado a chiudere le mie bellissime. un po' d'ora vado a... o più lo composto, andrò a chiudere, sempre un po' più traccio qui, quindi faccio qui. E vado a chiudere, o... ovviamente vado a mettere un tratto verticale interno, no? Vado a fare così. Vado a fare così per chiudere. Poi andrò a chiudere con una strada, mentre ci sono dei sassetti così, non buttate lì. Ma iniziamo, spostatevi da questa riunione, mettetevi sul bordo da qualche altra parte e ora vado a chiudere. e ora vado a chiudere completamente. Ora ho chiuso completamente. Ora mi ricorderò delle sfide dove sono proprio fatte. mettete un bel like, mettete un bel dislike, mettete un commento su questo canale vivo. Ditemi come vi ha pensato voi di guardare delle carote, se asseminate le carote, che carote asseminate, se utilizzate carote nastro. Un'altra bella novità che i prossimi anni vi porterò sul mio canale. Quindi niente, questo video è tutto. Io vi saluto, vi do appuntamento sempre sul mio canale nei prossimi video. Ciao a tutti agricoli. .